Ehi Gohan, non farti intimorire da quei mostriciattoli Bene, ricevuto Tu sei più forte di loro Già Gohan, tira fuori le unghie Sì, certo Ma cosa aspettiamo, diamogli una lezione Tenzing, sei arrivato E ci sei anche tu, Riff Sì Non dovevano essere solamente in due i Saiyan Sì, infatti, gli altri sono Sai-Bai Non importa, sistemeremo anche loro Quel piccoletto è il figlio di Goku, non è vero? Sì, Junior l'ha allenato e abituato al combattimento Abbiamo bisogno di una mano in più Tanto vi stermineremo lo stesso Sai, Paim Forza, fate i secchi tutti e quattro Fermi tutti Eccomi Scusatemi per il ritardo Yanko, finalmente Cosa? Adesso ci siamo tutti Sì, tranne Goku e Jirobai Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Perfetto Sono in sei Esattamente come i nostri vali di Sai-Bai Ma che coincidenza Ottimo Che cosa ne dite di fare un combattimento uomo contro uomo? Sarà molto divertente Non siamo venuti qui per divertirci Ma per eliminarvi e liberare la Terra dalla vostra presenza Calma, calma Non c'è fretta Iniziamo a sistemare questi vermiciattoli Così daremo a Goku il tempo di raggiungerci Krillie ha ragione Mi offro io per primo Sotto a chi tocca Se fossi in te non sarei tanto ansioso di battermi e di farmi distruggere Ha 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 Sotto a chi tocca Sotto a chi tocca Sotto a chi tocca